Ero talmente nervoso, una partita che contava praticamente zero e non gioco la finale. Però hai detto tanti rimpianti, non sulla nazionale. Io faccio gol, nel semifinale di Champions del 2005 io faccio gol ad Eindhoven, il gol che ci porta in finale, quella di Easton. Poi succede che noi giochiamo il mercoledì ad Eindhoven, la domenica in campionato c'è Mila e Juve in casa, l'anno in cui eravamo testa a testa ed era forse la terza e l'ultima partita e avevamo l'opportunità di superarla in campionato. Quindi giochiamo a San Siro, io faccio gol il mercoledì e Carlo non mi fa giocare quella domenica lì, c'era Mila e Juve. Perdiamo, so se ricordi, rovesciate i tre seghe e i gol di Del Piero, loro virtualmente vincono il campionato, noi la domenica dopo andiamo a giocare a Lecce a dieci giorni della finale di Champions. Carlo lì mi fa giocare perché era, diciamo, cominciava a preservare quelli che avrebbero giocato la finale e io non avendo giocato la domenica prima vengo schierato. Ero talmente nervoso, una partita che contava praticamente zero, che faccia un intervento, tento di fare un intervento assurdo all'ultimo minuto del primo tempo ma solo perché la testa non era...